Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimeteo. È arrivata l'attesa aria fredda su buona parte dell'Italia, aria fredda che sta determinando piogge temporali anche forte su diverse aree del centro-sud, il tutto accompagnato da un calo delle temperature. Questa fase, diciamo più tipica di un tardo inverno che di una primavera inoltrata, si protrarrà anche nelle prossime 24-48 ore, soprattutto sui versanti adriatici al meridione. Se infatti andiamo a vedere la mappa barica a scala europea, vedete appunto l'alta pressione defilata sull'ovest del continente, che tuttavia tenderà gradualmente ad avanzare verso est, mentre l'aria fredda continuerà a dilagare sull'Europa orientale, interessando anche le adriatiche e per l'appunto il meridione. Entriamo appunto nel dettaglio dell'Italia, vediamo che ci aspetta un tempo ancora marcatamente instabile al centro-sud ed in particolare sui versanti adriatici e su appunto le regioni meridionali, con ulteriori piogge temporali localmente anche di forte intensità e vedete appunto le nevicate sull'appennino centro-meridionale a quote decisamente basse per il periodo, con fiocchi anche sotto i 1000 metri, ancora una volta tra Molise, Lucania, ma anche sulla Campania. Neve che tornerà a interessare anche l'appennino Calabro e a tratti la Sicilia, fin verso i 1000-1300 metri. Tempo invece in miglioramento al nord a partire da ovest, ma anche sulle centrali tirreniche, il tutto in un contesto termico decisamente invece più umide. Bene, per ulteriori aggiornamenti